Tre volte in un solo mese, queste le parole al nostro arrivo di alcuni residenti di via San Felice nel quartiere del vallato di Fano che si sentono ormai da troppo tempo ostaggio dei ladri. Dopo vari furti in abitazione, ora i malviventi hanno preso di mira anche le automobili posteggiate davanti alle proprie abitazioni, senza però lasciare alcuna traccia del loro passaggio. In questi giorni siamo stati martoriati da ladri, ma non sono in questi giorni, sono anni che siamo martoriati da ladri, tutto è partito, hanno cominciato con entrare nelle case e a finire a questa notte che abbiamo subito l'ennesima ingiustizia che ci hanno aperto quattro macchine per ora accertate che dopo tutti i vicini non li ho visti. Per rubare due spicci o poco più. Volevo informare la popolazione fanese che se avesse notizie o vedesse qualcosa di informare le forze dell'ordine. Per quanto sono limitate nell'organico, macchinari, mezzi eccetera, faranno il loro possibile, però non è giusto non parlare. E non è neanche la prima volta che prendono di mira questa via? No, no, ripeto, sono anni, anche io stesso ho subito il primo furto in casa con me dentro, denunciato va bene e questa notte anche la macchina ha subito il furto. Da che io sappia questa zona qui forse è la più battuta del vallato, ecco. In altre zone ho saputo che sì vanno lo stesso ma molto meno. Non so, forse dipende che qua giù alla mia destra c'è la ferrovia che è un luogo di accesso molto facile e non battuto, non controllato da nessuno. Non lo so, comunque questa qui a mio parere è una via molto soggetta a delinquenza, ecco.